Pallone per Marrale, attenzione, la conclusione, che gol! Simone Scozzari! Ha segnato l'Akragas! Un gollasso di Simone Scozzari! Mamma mia che gol! Vantaggio Akragas al ventesimo della ripresa. Ragusa 0, Akragas 1. Un super gol di Simone Scozzari. Eccolo qui l'eroe di giornata, Simone Scozzari, super gol per la vittoria dell'Akragas, terza vittoria di fila. Raccontaci le emozioni che hai provato. È bello segnare il primo gol in Serie D con la maglia dell'Akragas, con la maglia della propria città. Sono emozionato, ho fatto il gol e la vittoria, ho portato tre punti a casa. Volevi metterlo lì il pallone sotto l'incrocio dei pali? Possiamo dire sì e no, però è importante il gol. Quanto sei felice, quanto sei contento? Tantissimo. Questa vittoria per l'Akragas, che valore ha la terza vittoria di fila in campionato? Abbiamo passato prima un periodo brutto e ora ci siamo ripressi piano piano e continuiamo così. Che partita è stata contro Ragusa? È stata una partita tosta, io dico che ci siamo giocati a pari. Poi un tiro in più, un tiro in meno, è importante che abbiamo vinto questo. Dedica speciale per questo gol? A mia mamma.